Fonti vicine al sindacato confermano un'indiscrezione scoraggiante. Il gruppo Coop potrebbe farsi da parte nella trattativa per rilevare i punti vendita ex Aligroup, oggi in amministrazione controllata. Coop era dato ad un passo dall'acquisire 21 degli oltre 50 punti vendita in questione. Dinnanzi ad una simile possibilità, i lavoratori, sempre più preoccupati, hanno deciso di scendere in piazza. Domattina alle 9 in punto si raduneranno ai piedi della prefettura a Catania per invocare un gesto di attenzione del prefetto Francesca Cannizzo. La protesta dovrebbe mettere insieme le principali sigle sindacali a partire da CGL, CISL e WILL. I dipendenti del gruppo Aligroup sono circa 1.800 senza contare l'indotto. La scorsa settimana è raggiunta una buona notizia nella trattativa assieme a Coop, Conad ed Ergon era entrato il gruppo ennese Arena, proprietario del marchio CIDIS, con l'intenzione di comprare quattro strutture tra iper e supermercati. Prosegue inoltre la procedura con cui Aligroup dovrà ripianare i propri debiti verso i circa 2.000 creditori. L'avvertenza è dunque sempre più complicata.